una delle domande che mi viene posta più frequentemente durante le sessioni di costruzione con vari amici con vari club o anche attraverso i social e per quale motivo stravolgere completamente il montaggio tradizionale intendendo per montaggio tradizionale il montaggio di quelle classiche mosh che mi riferisco qui vediamo l'immagine di una royal ma i montaggi devo tanti 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 montaggi classici standardizzati con delle ricette ben precise fino agli inizi del secolo scorso ma anche fino a 30 40 anni fa erano disponibili dei veri e propri manuali da costruzione nelle quali erano riportate minuziosamente le ricette con colori materiali da utilizzare e quant'altro bene possono esistere varie motivazioni per cui si possa sentire la necessità di trasformare una royal in una mosca come quella che state vedendo adesso in pratica e lo stravolgimento totale di ciò che verosimilmente voleva essere l'imitazione di un e che dio nuri de no quindi per quale motivo passare dal quel modello classico a questo tipo di costruzione beh io direi che le esigenze che un moderno pescatore a mosca sono differenti da quelle che avevano 40 50 anni fa i nostri predecessori innanzitutto parliamo di selettività di pesce oggi un pesce grazie anche a tutte le possibilità e all'applicazione del catch and release ha la possibilità di diventare estremamente selettivo noterete quindi certamente le differenze esistenti tra un montaggio tradizionale e un montaggio nuovo soprattutto dal punto di vista del pesce il punto di vista del pesce è quello che il pesce vede da sotto l'acqua quindi da un prospettiva che è totalmente diversa dalla nostra ecco in questo tipo di costruzione vedete che abbiamo un enorme massa di ecols che forano l'acqua che creano volume mentre in una costruzione diversa differente dal punto di vista del pesce si nota la silhouette del del corpo l'accello del torace delle zampe laterali nulla di più tra l'altro l'utilizzo di materiali nuovi quando meno attualmente disponibili mi riferisco sempre materiali naturali perché io sono un convinto utilizzatore di materiali naturali fanno sì che non sia compromessa assolutamente la galliciabilità del nostro artificiale utilizza non utilizzando le tradizionali ecols in questo caso qui il sostegno è dato da dal corpo in capoc dei cerci in in crine d'alce mentre il torace è un dubbing in cdc e pelo di camoscio quindi materiali totalmente galleggianti che a dispetto della assenza di ecols garantiscono più galleggiabilità al nostro artificiale e garantiscono comunque una maggiore somiglianza a quello che che può essere la silhouette di un insetto trasportato dalla corrente a seguito vedremo altri esempi di differenze tra una costruzione secondo metodiche classiche questi insetti sono provengono da una mia collezione di mosche originali di ardi comprate negli anni 80 a londra e servono molto bene a far notare le differenze di costruzione si alterneranno quindi queste immagini di mosche tradizionali tra virgolette e mosche secondo il mio concetto ovviamente lo scopio di questo filmato non è quello di appropriarsi di un copyright sui dressing assolutamente sono convinto che da che il primo uomo ha avuto la geniale intuizione di di legare qualcosa ad un amo per imitare un insetto bene da quel momento in poi secondo me non è stato più inventato nulla si tratta solamente di elaborazione o rielaborazione di idee l'idea è sempre la stessa quella di imitare ciò di cui i pesci si stanno notrendo in quel momento ecco e qui vediamo una imitazione di blu tan che rispetto alla precedente rispecchia assolutamente sempre dal punto di vista del pisce unicamente la silhouette del corpo i circi le alette in cul de canard ben separate che aiutano a tenere la mosca interamente costruita in cul de canard quindi materiale altamente galleggiante e limitazione molto molto coerente alla imitazione reale ecco qui vediamo un'olivetta sempre dalle collezioni classiche di ardi una medium olive e osservandola anche dal di sotto si nota come ci sia un eccessiva presenza di ecols di ingombro in generale mentre in un approccio più come dire elementaristico vediamo un corpo costituito in capoc classico dubbing in questo caso pelo di lepre e cul de canard per quanto riguarda il torace e le zampette alette in cul de canard tra le altre cose una metodica costruttiva del genere è una metodica che consente tempi di produzione rapidissimi immaginate cosa significa già semplicemente avvolgere le ecol in maniera ordinata sistemare posizionare le alette di stornello come in questo caso posizionare i circi creare il corpo col kill di pavone spellato insomma tutta una serie di macchinazioni che rendono come dire onerosa la costruzione di un di un artificiale con metodiche nuove si riescono ad azzerare i tempi tra l'altro in questo tipo di costruzione che vediamo il corpo dell'insetto finisce con non toccare proprio l'acqua alla fine l'insetto è sostenuto dai cerci e dalle acols che la tengono tengono il corpo ben distaccato dall'acqua in natura non si osserva una cosa del genere in natura il corpo dell'insetto è ben appoggiato alla superficie dell'acqua e quindi le mie mosche derivano tutte da queste considerazioni a cena qui abbiamo fatto cenno negli anni quella che vedete in fotografia l'esecuzione di una capuanella una danna banalmente costituita da un'unica piuma di collo di gallo e da delle alette in cul de canard qui la vediamo nelle due forme dan ed emerger ma sempre il tutto volto alla semplificazione massima del dressing e alla massima somiglianza di insieme all'insetto in quel momento ischiusa da queste considerazioni nel tempo elaborato vari tipi di costruzione ripeto senza voler influenzare nessuno sono delle idee che vi sto esponendo tipo la abort che vedremo qui di seguito la abort eccola nasce come idea di imitazione di quelle effimere in emergenza che molto spesso hanno difficoltà di liberarsi della propria esuvia cosa che le rende particolarmente appetibili in quanto ogni predatore tende a predare a catturare l'animale l'insetto più in difficoltà questa è la massima difficoltà che ha un'effimera nel liberarsi in prossimità della superficie dell'acqua della propria esuvia e poter finalmente escludere le ali e permettere così di potersi permettere così di potersi involare ecco questa è un'immagine che sono riuscito a catturare in internet proprio per verificare per identificare questo particolare stadio l'imitazione che ne consegue è questa l'abort che è somigliantissimo ovviamente qui è possibile sbizzagirsi questa è una versione di abort per la pesca serale in cui il ciuffo di culte canard bianco consente una enorme visibilità dell'insetto in sintesi ho voluto brevemente ma sarebbe necessario molto più tempo esporre quali sono le mie idee in merito alla costruzione e perché pratico questo stravolgimento totale delle classiche dei classici dressing spero di essere stato sufficientemente chiaro per qualunque ulteriore dettaglio o spiegazione o chiarimento o anche perché no polemica potete contattarmi liberamente e su questo canale youtube troverete molti dei dressing che ho realizzato nel tempo e che pian piano completerò con altri con altri filmati sperando di dare il mio piccolo contributo a delle nuove idee grazie